Steve! Benvenuto al mio Beach City Horror Club! L'avrei chiamato Club del Comico! Lars? Si può sapere che cosa ci fai tu qui? Accomodatevi. Sono già morto di paura. Ronaldo, giusto? Ah, io sono Sadie. Finalmente ti conosco di persona. Steven, tu sei amico di Lars? Sì, perché non lo sono tutti? Oh, mamma! Sì! Il nostro primo film di stasera è un classico che non ha bisogno di presentazioni. L'Orso Assassino 2. Il Re di Vivo. Cosa? Io l'ho già visto! È di una noia mortale. Quell'orso disegnato al computer ha una faccia che ti chiedi come possa uccidere qualcuno. Disegnato al computer? Blasfemia! Tu hai visto il remake? Quello che io ho qui è l'originale. Un vero fan non accetterebbe niente di meno. Oh, bello. Abbassati una tacca. Oh, aspetta. Come hai avuto quella copia? Posso vedere la cassetta? Oh, in questa versione si vede l'Orso Assassino mangiare la gamba di Hermit. Non è che sarà un po' troppo per lui? Oh, cosa vuoi che sia? Ehi, Steven! Sicuro che riesci a vedere col divano davanti. Mi stai mangiando la gamba! Ho perso la parte dove si vede il microfonista! Ah, proprio adesso! Che cosa succede? Sarà assaltato un fusibile. O magari è uno spettro. Buona questa? No, e se fosse sul serio uno spettro? Come scettico della mortalità, ho da tempo il sospetto che questo posto possa essere infestato. Spirito! Io ti supplico! Smettila, sei troppo strano per i miei gusti. Vogliamo avere un contatto. Ti preghiamo, Spirito. Mandaci un segno. Spirito, quello era un buon segno! Ma ce ne manderesti un altro paio, giusto per essere sicuri? È tutto chiaro, Spirito. Puoi anche rallentare un pochino adesso. Ma com'è possibile? Una cosa incredibile! Un'autentica casa infestata! Presto, usciamo da qui! Non vuole aprirsi!